Straordinaria! Sognatrice! Energia smart e green, come te! Siamo Estra, vicini a te ogni giorno con i nostri 90 store e con l'app Dove Sei Tu. Come te, ci prendiamo cura di dove viviamo. Passa a Estra, scegli Pura Luce, l'energia verde da fonti rinnovabili che nasce dal nostro territorio. Chiamaci al numero 0721 149 00 05. Vieni a trovarci nei nostri store in Viale Marsala 20 a Pesaro e in Viale Roma 24 a Vallefoglia.